Un altro gran gol anche oggi, qua c'è l'assalto dei tifosi, gran gol anche oggi? No, ho fatto un gran gol ma più importante abbiamo vinto una partita molto importante, una partita dura e anche difficile e come si dice abbiamo preso tre punti e questo è più importante Poi hai avuto l'occasione per fare il secondo gol e fu bravo il portiere però eh? No, è stato anche lui bravo ma sono andato troppo tranquillo come si dice, troppo arrogante ma bisogna fare più cattivo avanti di gol, tranquillo ho fatto una gol per oggi e abbiamo vinto 3 a 0 Senti, era la miglior difesa del campionato e il ministro della vigilia ha detto voglio cattiveria sotto porta mi sembra che le occasioni quando ci sono state sono state subito sfruttate al meglio no? No, al primo tempo quando abbiamo arrivato avanti di gol di 30 metri abbiamo sbagliato un po' ma poi in pausa mi sono detto bisogna giocare meglio avanti di gol e abbiamo fatto così abbiamo fatto tre gol avanti di gol e ha creato ancora di più azione ma secondo me siamo precolosi quando arriviamo avanti di gol tutte le volte